ma buonasera buonasera a voi come state benissimo te io tutto bene come sempre sono sempre nel mezzo però guarda mi fa grande piacere vedermi anche da queste parti noi ti vediamo dietro e ti sentiamo lo so lo so ormai mi sono abituato no davvero è veramente una bella situazione qua ci divertiamo bellissimo la strada è bellissima mi piace è troppo bello poi qua dietro abbiamo il mare uno si gira si distrae vede il mare la gente è molto carica troppo bello grazie gentile come al solito grazie grazie mille bene caro io ti ringrazio saluto tutti gli amici di tv a presto